Il futuro di Ciro Immobile a Lazio è tutt'altro che sicuro ebbene sì perché il giocatore ha dichiarato di essere rimasto molto ferito dal trattamento insomma che gli è stato riservato da quando insomma è iniziata la stagione 23-24 e che non si sarebbe mai aspettato dopo che aveva rifiutato l'offerta araba ha detto adesso ci penserei, all'epoca volevo rimanere per determinati motivi e mi sarei aspettato un po' più di gratitudine quindi sul futuro Lazio è tutt'altro che sicuro ora ne andremo a parlare però volevo annunciarmi una cosa il mio profilo Instagram si è rivoluzionato ne ho aperto uno nuovo fondamentalmente professionale diciamo così dove condivido contenuti esclusivamente calcistici magari può capitare la cosa carina l'incontro con qualche collega, con qualche amico meno male sono tutti quelli del mio settore però ecco ho voluto un attimo cambiare un po' tutto ho voluto ripartire da zero su Instagram perché mi rendo conto che non sono un tipo che l'ha mai curato molto adesso però è giunto il momento di curare anche quello perché penso che un creato di contenuti debba essere tale ad ampio raggio quindi non è giusto che mi concenti soltanto su YouTube e mi sono aperto maggiormente al mondo di Instagram anche se non è della mia generazione ma così è ed è giusto che così sia ma veniamo a noi appunto il fatto di immobile questa sua indecisione addirittura dicendo che non si sa quello che succederà a gennaio volevo dire semplicemente la mia allora da un certo punto di vista ha ragione nel senso che comunque lui ha fatto tantissimo per la Lazio merita di essere un idolo per i tifosi laziali ma allo stesso tempo viene inserito un concetto che tecnicamente non c'entra nulla con niente nel senso che comunque la gratitudine è un concetto astratto ma è un concetto che fondamentalmente ti lega al passato molte squadre hanno utilizzato la gratitudine come metodo di giudizio per un calciatore o meno la Juventus anni fa quando aveva giocatori ormai ultra trentenni si è trovata poi in Casini perché poi quei giocatori ultra trentenni hanno avuto un calo fisico ma di contro ti trovavi in gaggi pesanti e il giocatore stesso essendo ultra trentenne non aveva diciamo mercato stessa cosa fece l'Inter nel post triplete rinnovò i contratti a mezzo mondo poi quando fisiologicamente dei giocatori sono scesi di rendimento ti si è trovato dei macini da portare magari avanti per due tre quattro anni e questo già sarebbe parzialmente comprensibile in un calcio dove comunque il lato economico è a tuo favore ma in un calcio moderno dove devi fare veramente le pulci agli acquisti dove si sta tornando a valorizzare i giovani da questo punto di vista per fortuna perché tu non hai più soldi comunque per acquistare giocatori molto più onerosi ecco delle mosse così quindi avere giocatori molti là con l'età con contatti importanti può essere un malus quindi mi sento di dire che gratitudine sì assolutamente ma è un qualcosa che ti lega al passato adesso bisogna guardare Lichetnunk e Lichetnunk è che comunque immobile essendo classe 90 quindi va per 34 anni sta avendo una fase calante è innegabile un po' per la lucidità un po' magari perché non ha più quei metri quell'autonomia di corsa che poi lo porta a essere utile alla squadra ma anche fondamentale in zona goal un po' perché il fisico magari può avere un pochino di acciacchi in più adesso appunto dovrebbe essere fermo per problemi ai flessori scusate ai muscoli ischio crurali come tanti altri giocatori hanno avuto e stanno avendo problemi ai flessori quindi voglio dire da un certo punto di vista c'è da prendere atto immobile deve prendere atto della sua condizione quindi o comunque si mette cambia un pochino il suo metodo il metodo di giudizio su se stesso e quindi si mette più a favore della società ma a livello anche di progettualità quindi rendendosi utile anche da altri punti di vista se invece il suo scopo è giocare 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 perché così e perché vuole gratitudine beh oddio è un concetto ripeto da una parte giusto ma dall'altra parte purtroppo è intriso di un romanticismo che nel calcio moderno purtroppo sottolineo non ti puoi permettere perché ci sono da fare 300 calcoli attorno quindi io sono favorevole ero favorevole all'acquisto di Castellanos da parte della Lazio e io penso che nell'arco di qualche mese Castellanos diventi titolare perché comunque a parte che a livello di caratteristiche tecniche lo trovo un po' più utile rispetto a questo Immobile lega un po' più il gioco fa giocare meglio gli esterni mentre Immobile è uno che magari partiva d'arco a destra quando si d'arco a sinistra scusate quando tornava un po' indietro ma poi puntava la porta lui è più un finalizzatore più un uomo che ti sfrutta la profondità che ti fa girare la squadra ma anche in ripartenza comunque è un'ottima velocità Immobile Castellanos è diverso è più un attaccante con una parte DNA da numero 10 diciamo così quindi il calcio moderno secondo me è più funzionale questo è anche un perché uno dei perché Immobile non ha mai reso quella nazionale perché non giocava per Immobile non giocava secondo le caratteristiche di Immobile quindi se anche Lazio magari adesso comincia un pochino a cambiare è ovvio che Immobile passa un pochino dietro nelle gerarchie quantomeno potrebbe passare un po' indietro nelle gerarchie in più metti il fatto dell'età il fatto dei degli acciacchini fisici adesso appunto stiamo a vedere quello che farà Gennaio perché secondo me Immobile se dovesse arrivare un'offerta importante non c'è diciamo Lazio che tenga questo prende va non voglio fare altri ragionamenti di dietrologia quindi però se pentito perché magari ripensandoci magari parlando con Tizio o con Caio avrebbe potuto accettare un ingaggio molto superiore di quello che percepisce Roma però ecco secondo me quello dovesse arrivare un'offerta importante Immobile la prenderà in considerazione bisogna vedere poi la Lazio eventualmente con chi lo sostituirebbe ma ripeto se fossi a Lazio io al 60-70% punterei su Castellanos perché un 98% perché può rappresentare il futuro Immobile per quanto tempo è ancora il futuro della Lazio da qui a 5 mesi da qui a una stagione ma poi per anni a Lazio ha peccato nel non trovare un sostituto di Immobile ora che ce l'ha e anche secondo me di valore è giusto che ci punti perché ripeto non stiamo parlando di un Immobile ventenne ma che va per i 34 anni quindi cari tifosi a Lazio e anche non ovviamente chi vorreste eventualmente al posto di Immobile lo terreste lo cedereste fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra impressione e per quanto riguarda il profilo Instagram nuovo ovviamente lo trovate qui sotto in descrizione semplicemente cambio il link di quello vecchio vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.